Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Ci sono degli eventi a volte che sono talmente piccoli che non passano inosservati ma quantomeno vengono dimenticati. Piccoli eventi in qualcosa di invece molto molto grande che ad un certo punto smettono semplicemente di essere ricordati sui libri di storia. Eppure questi eventi talvolta hanno degli effetti imprevedibili e come una farfalla, la famosa farfalla che sbatte le ali a Pechino e che provoca un tornado in Europa possono letteralmente cambiare la storia del mondo. Ad esempio, avete mai sentito parlare dell'invasione francese della Sardegna? Ho detto Sardegna, non Corsica. La Corsica non venne invasa, venne comprata. Questa è una storia un po' più lunga, l'abbiamo raccontata in una vecchia pillola che vi metto in descrizione. No no, parlo proprio della Sardegna, un'invasione che avvenne durante le prime fasi della rivoluzione francese. Bene, quell'invasione che racconteremo ovviamente oggi, anche se sembra un piccolo fatto d'arme rispetto a tutto quello che stava accadendo in Europa, come vedremo avrà delle ripercussioni enormi sull'Italia, sul regno di Sardegna, sulla Francia e soprattutto su un personaggio che presto diventerà leader, capo e guida unica proprio della Francia, cioè un certo Napoleone Bonaparte. Quindi, se non siete ancora iscritti al canale, fatelo, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, sigla e poi iniziamo a raccontare. Quando pensiamo alla rivoluzione francese, il primo pensiero che ci viene in mente è che, tra la presa della Bastiglia nel 1789 e la nascita ufficiale della Repubblica, con la morte di Luigi XVI e Maria Antonietta, sia passato un tempo relativamente breve, quasi come se la rivoluzione avesse portato a questo risultato. Le cose in realtà non furono così. Ci vollero parecchi anni perché questi due avvenimenti diventassero uno seguente all'altro, anni in cui il governo francese venne retto da un Parlamento che però governava teoricamente ancora in funzione del sovrano stesso, il quale, pur avendo perso gran parte del suo potere, riusciva ancora in parte ad influenzare la politica francese. Nonostante questo, già prima che Luigi XVI venisse catturato e poi giustiziato, altre potenze europee avevano iniziato a guardare con molto sospetto a quello che succedeva in Francia, da una parte perché non sapevano dove le cose sarebbero andate a parare, come infatti poi successe, dall'altra parte perché temevano che quelle idee rivoluzionarie potessero diffondersi al di fuori della Francia, far venire strane idee ai loro di cittadini e portare anche i loro troni a traballare. Nel 1791 due di queste potenze, cioè il Regno di Prussia e il Sacro Romano Impero all'epoca retto dagli Asburgo, decisero di unirsi in una coalizione per estendere una dichiarazione alla Francia in cui si intimava sostanzialmente al Parlamento di ripristinare il potere del sovrano, altrimenti le due potenze sarebbero intervenute. Non era una dichiarazione di guerra, almeno non ufficiale, anche se bisogna dire che entrambe le potenze iniziarono a mobilitare delle truppe e a prepararle ad un eventuale scontro, ma ovviamente una dichiarazione così aggressiva portò a lunghe discussioni anche in Francia. Ad un certo punto iniziò a nascere un vero e proprio partito della guerra, di chi diceva che era necessario dichiarare guerra a queste potenze prima che lo facessero loro. Un partito che era curiosamente trasversale, perché da una parte ad appoggiare quest'idea della guerra c'erano i repubblicani più oltransisti, i rivoluzionari, i quali speravano che una guerra vittoriosa avrebbe permesso di esportare la rivoluzione anche nel resto d'Europa. Dall'altra parte però c'erano anche i monarchici, coloro che appoggiavano Luigi XVI, che speravano che quella guerra, qualora fosse stata persa, avrebbe portato alla caduta del governo e al ripristino del potere del sovrano. Il risultato fu che nel 1792 la Francia decise di dichiarare guerra ai due stati. Ora, la guerra fin dall'inizio fu molto complicata, anche perché l'esercito francese non era esattamente allo sbando, ma quasi. Di per sé la sua forza militare si era già molto indebolita negli ultimi anni di monarchia, a causa di problemi economici, di corruzione, ma con lo scoppio della rivoluzione a questo si era aggiunto anche una grossa confusione su come queste truppe dovessero essere arruolate e soprattutto su come dovessero essere gestite, tanto più che molti degli altri ufficiali erano nobili e quindi erano stati destituiti o erano sul punto di esserlo. Il risultato fu che le truppe francesi in questo primo anno di guerra ebbero dei pessimi risultati. Provarono ad invadere l'attuale Belgio, le fiandre degli Asburgo, ma vennero ricacciati indietro. E addirittura la Francia dovette subire un'invasione da parte di truppe prussiane che venne fermata solo con la battaglia di Valmy. Una battaglia che nel corso degli anni divenne poi quasi mitologica. Si parlava dei soldati straccioni francesi guidati dal generale Kellerman che erano riusciti a fermare le forze prussiane. Una battaglia che però bisogna dire in effetti fu vinta dalla Francia anche un po' stupendo gli analisti militari e che in qualche modo riuscì a salvare la rivoluzione. Dopo essere riusciti quantomeno a ricacciare i nemici fuori dal loro territorio, i francesi decisero di passare al contrattacco e di farlo cercando di occupare territori anche di nazioni che ancora non erano scese in guerra ma che probabilmente presto lo avrebbero fatto. A cominciare dal vicino Regno di Sardegna. Ora, come tutti voi sapete, a dispetto del nome, il Regno di Sardegna non era effettivamente il Regno dell'Isola di Sardegna, ma era il Regno dei Savoia, che controllavano l'attuale Piemonte, Valle d'Aosta, due regioni attualmente francesi, cioè la zona di Nizza e appunto la Savoia, e l'Isola di Sardegna. L'Isola di Sardegna in particolare era diventata sarda all'inizio del XVIII secolo. Nel 1713, con il Trattato di Utrecht di Savoia, ottennero a tutti gli effetti il titolo di sovrani, ma non sovrani di Sardegna, ma sovrani di Sicilia. Un'isola che però tennero solo per pochi anni, perché poi vennero costretti a scambiarla con la Sardegna. Per i Savoia lo scambio possiamo dire che dal punto di vista economico non era stato un gran risultato. La Sicilia era molto più grande, più popolosa e ovviamente molto più ricca, anche se sarebbe stato un po' più difficile mantenerla data la distanza territoriale. La Sardegna, nonostante avesse portato il titolo reale, in realtà venne trattata dai Savoia non molto diversamente da una colonia. Decisero di mandare un vicere che l'avrebbe governata in loro nome e, pensate, il sovrano del regno in realtà non mise mai piede su in Sardegna fino a quando non fu costretto dall'avanzare delle truppe napoleoniche che lo fecero fuggire e appunto rifugiarsi in Sardegna. Ma siamo alla fine del XVIII secolo. Per la Sardegna il passaggio di proprietà, tra virgolette, dagli spagnoli ai Savoia non fu esattamente indolore, anche perché il governo spagnolo era stato molto permissivo. Accettava che la Sardegna sostanzialmente si autogovernasse, ovviamente solo a livello locale, poi le decisioni più importanti venivano invece prese dai rappresentanti spagnoli, e chiedeva in cambio solo il pagamento di tasse e, eventualmente, la fornitura di truppe. I Savoia, invece, avevano un regno, come dire, un po' più moderno, molto più simile a quello che si stava tentando di fare in Francia, un regno che cercava di centralizzare tutte le decisioni nelle mani proprio dei governanti, instaurando quindi una burocrazia che, piovuta dall'alto e che senza lasciare molto spazio ai locali, sarà molto poco accettata dai Sardi. Inizialmente, la campagna condotta dai francesi fu vittoriosa. Riuscirono ad occupare Nizza, riuscirono ad occupare la Savoia, e alla fine del 1792 decisero che il passo successivo sarebbe stato proprio occupare la Sardegna. Perché la Sardegna? Beh, innanzitutto perché si pensava sarebbe stato molto più facile da occupare rispetto a un'invasione diretta del suolo italiano per occupare il Piemonte e la Valle d'Aosta. Il secondo motivo era che era considerato una posizione strategicamente importantissima, sia dal punto di vista militare che dal punto di vista diplomatico, per ovviamente la sua posizione nel mare di fronte all'Italia. Da punto di vista militare, era ovvio che avere una base nel mezzo del Mediterraneo poteva essere molto utile, anche perché nella Spagna, nell'Inghilterra e la Gran Bretagna erano ancora entrati in guerra, ma tutti si aspettavano che prima o poi potessero farlo. Dall'altra parte, occupare la Sardegna avrebbe potuto rappresentare un monito per gli stati italiani, che a loro volta ancora non si erano schierati, ma che, se fossero entrati in guerra, avrebbero in qualche modo saputo che da una posizione di forza i francesi avrebbero potuto attaccare, e questo forse li avrebbe spinti ad esistere. Tutto questo i Savoia lo sapevano, o quantomeno lo sospettavano, ma fin dall'inizio non ebbero grosse possibilità di portare aiuti in Sardegna, un po' perché gli era stato occupato il porto di Nizza, un po' perché ovviamente le truppe e le artiglierie servivano per difendersi da un eventuale attacco anche in Italia. Venne però dato, mandato, all'allora vicere della Sardegna, Vincenzo Balbiano, di arruolare delle truppe. E Balbiano in effetti ci riuscì, anche perché, nonostante tutti i dubbi della popolazione sarda nell'aiutare i Savoia, riuscì a fare leva sull'aspetto religioso, facendo circolare la notizia di quello che stava avvenendo in Francia, calcando molto la mano sulla repressione che stava avvenendo nei confronti del clero, e in questo modo riuscendo a raccogliere quasi 10.000 uomini, che anche se non erano armati con armi modernissime, e mancavano purtroppo soprattutto di artiglieria, erano comunque un considerevole esercito per provare a fermare un'invasione. L'invasione intanto si stava preparando. I francesi avevano assemblato una flotta, la loro flotta mediterranea, nel porto di Tolone, e avevano mandato uno dei migliori ammiragli, Lorraine Truguet, a cercare di preparare l'attacco. Truguet era nobile, ma era un nobile di idee fortemente rivoluzionari, tant'è che continuerà la sua carriera durante tutto il periodo rivoluzionario, e poi anche quello napoleonico. Addirittura talvolta entranno in scontro con Napoleone stesso, perché di idee molto più estreme rispetto alle sue. Era però anche un ottimo uomo di mare, e quando raggiunse la flotta si rese conto che non solo questa era abbastanza scalcagnata, ma che soprattutto scalcagnate erano le truppe che dovevano accompagnarla per invadere la Sardegna. Non potendo però fare diversamente, decise di mettersi in movimento, e il 21 dicembre 1792 si presentò davanti al porto di Cagliari. Questo primo tentativo di attacco fu un fallimento colossale, ma non per motivazioni militari, ma semplicemente a causa del vento. L'attacco, portato in pieno inverno, ovviamente non trovò delle perfette condizioni dal punto di vista del mare, e quando la flotta francese arrivò nel Golfo di Cagliari venne sospinta da una vera e propria tempesta verso ovest, tanto da disperdersi lungo tutta la costa, addirittura con alcune delle navi che si trovarono spinte in mare aperto oltre la Sardegna stessa. A questo punto Truguet decise che prima di riprovarci doveva stabilire delle basi, e per questo fece sbarcare i suoi uomini in due isole che probabilmente, se seguite queste pidole, conoscete molto bene, cioè San Pietro e Sant'Antioco. Sono due isole che si trovano all'estremo sud-oveste della Sardegna, di cui abbiamo parlato, se ricordate, nella puntata dedicata ai tabarchini. Due isole, che ovviamente non erano particolarmente protette, che vennero occupate dai francesi e trasformate nella loro base. Il 20 gennaio decide quindi di riprovarci su Cagliari, questa volta agendo prima di diplomazia. prende alcuni uomini, li carica su una barca e li manda proprio nel porto di Cagliari per proporre ai difensori una resa. La risposta dei Sardi però è molto violenta. La barca, prima ancora di poter toccare terra, viene colpita da un fitto fuoco di fucilerie. Quasi tutti gli uomini a bordo muoiono con gli altri che riescono a salvarsi solo riparandosi dietro un vascello svedese che si trovava nella rada. A questo punto Truguet decide di agire, manda le sue navi nel golfo, inizia a cannoneggiare direttamente la città, ma nonostante le artiglierie Sabaude siano inferiori in numero e qualità, la posizione elevata su alcune torri e alcuni forti permette loro di rispondere, infliggendo dei danni alla flotta francese e costringendole a ritirarsi. L'11 febbraio Truguet decide quindi di cambiare la sua strategia. Fa sbarcare delle truppe poco a est rispetto alla città a Quartus Sant'Elena e da qua 1200 uomini cercano di spingere verso la città. Gli attacchi vanno in due direzioni. Prima direttamente verso la città attraverso il lazzaretto, secondariamente verso la torre di Calamosca, che è su un piccolo promontorio e che chiude proprio l'accesso al porto di Cagliari, pensando di, una volta presa quella torre, poter usare in maniera più libera proprio le artiglierie a bordo delle navi. Le truppe sarde però resistono. Resistono a questo primo attacco con 1200 uomini e resistono anche al seguente attacco fatto con quasi 5000 uomini portato poche ore dopo, quando le truppe francesi ormai sbarcate nella loro quasi totalità aggredirono le forze sarde che intanto avevano creato dei ripari di fortuna e che però riuscirono ancora una volta a respingerle. Alla fine Trouguet, dopo aver subito pesanti perdite, 300-500 uomini a seconda delle fonti, fu costretto a ritirarsi. Pochi giorni dopo tornò ancora una volta nel porto, cercò ancora una volta di utilizzare le navi per cannoneggiarne le difese, subì altri danni ma soprattutto venne colpito da una nuova tempesta che ancora una volta trascinò via la flotta francese facendo anche affondare alcune navi e convinse Trouguet che non vi era assolutamente una strada con quelle navi e quelle truppe per poter sbarcare in Sardegna. Lasciò un gruppo di uomini a San Pietro e Sant'Antiaco con alcune navi per difendere quella base qualora si fosse deciso di tornare ad invadere la Sardegna e se ne tornò verso Tolone. Teoricamente però il piano francese prevedeva un attacco concentrico o meglio, prevedeva che mentre le forze di Trouguet a sud attaccavano Cagliari un altro contingente proveniente dalla Corsica sbarcasse nel nord della Sardegna in modo da attirare una parte delle truppe sarde, sardo-piemontesi, proprio in questa zona. Peccato che il tutto fosse stato organizzato malissimo e che quelle truppe fossero pronte a muoversi solamente il 22 di febbraio quando ormai le forze francesi a sud si stavano già ritirando e tornando indietro. Da chi erano composte quelle truppe? Beh, non erano composte da francesi, se non in minima parte, ma erano principalmente composte da corsi. Ora, sapete che la Corsica, ripeto abbiamo fatto una pillola in passato, ve la metto in descrizione, era stata per molto tempo francese ed era stata poi ceduta alla Francia prima ancora che scoppiasse la rivoluzione. Ovviamente non tutti i corsi avevano accettato questa situazione, anzi la maggior parte di loro era di idee indipendentiste e credeva che la Corsica non dovesse stare né con Genova né con la Francia, ma essere indipendenti. Tra i capi di questi indipendentisti ormai da molti anni c'era Pasquale Paoli, il quale aveva lottato per l'indipendenza della Corsica contro i sovrani francesi e poi aveva visto la nascita della Repubblica con molta attenzione, nella speranza che la Repubblica potesse accettare l'indipendenza o comunque una grossa autonomia della Corsica. In questa prima fase Pasquale Paoli si era quindi schierato insieme alla Repubblica e quei 450 uomini li aveva mandati proprio lui attraverso le bocche di Bonifacio per invadere il nord della Sardegna. Ad accompagnare le forze di Pasquale Paoli, che erano guidate da un colonna Cesare che era un suo parente, c'era un altro corso che diventerà di qui a poco molto importante, cioè Napoleone Bonaparte. La famiglia dei Bonaparte, o meglio la famiglia dei Buonaparte, come tutti voi sapete, era una famiglia nobile in Corsica. Napoleone fin da giovane era stato mandato in Francia a studiare nell'Accademia Militare, era diventato un ufficiale di artiglieria e proprio nel 1792 avrebbe dovuto avere il suo primo comando. Aveva però deciso di non prendere quel comando ma di tornare in Corsica, dove aveva cercato di entrare nella vita politica della Corsica, ma dove era stato anche parzialmente isolato, perché ovviamente Pasquale Paoli preferiva appoggiarsi a famiglie più ricche e più nobili della sua. Nonostante questo era riuscito a strappare il comando delle artiglierie proprio al governo francese, il quale peraltro era nel caos e continuavano a cambiare i governi, cambiavano i ministri e non si resero particolarmente conto del fatto che Napoleone si stava praticamente autonominando da solo a questa carica. Quando finalmente le truppe corse riuscirono ad attaccare, il loro obiettivo era inizialmente molto limitato, cioè l'isola della Maddalena, dove vi era una fortezza nelle mani dei Savoia e che si pensava una volta preso avrebbe potuto essere un'ottima base per fare altre puntate nel nord della Sardegna. L'attacco all'isola però fu un disastro. Napoleone, che sbarcò per primo insieme alle sue artiglierie, avrebbe dovuto mettere sotto attacco la fortezza e in questo modo distrarla, mentre le forze di Colonna Cesare sarebbero dovute sbarcare e catturarla. Peccato che le forze corse decisero di ammutinarsi e dopo aver discusso a lungo con il loro comandante decisero di tornare indietro senza attaccare la fortezza. Napoleone, rimasto solo e rendendosi conto che all'alba sarebbe stato scoperto e le sue poche truppe fatte a pezzi, con una rabbia gigantesca, dato che nessuno lo aveva informato della cosa, fu costretto a reimbarcarsi sulle sue navi, peraltro lasciando lì anche le artiglierie nella fretta e tornare indietro. La cosa ovviamente provocò una grossa spaccatura nel frontecorso, anche perché Napoleone si convinse che questa manovra fosse stata fatta assolutamente solo per motivazioni politiche, senza nessun vero intento militare. Il 25 maggio le ultime forze francesi ancora presenti in Sardegna, a San Pietro e Sant'Antioco, osservarono la flotta spagnola presentarsi di fronte alle loro coste. La richiesta fu molto semplice, quella della resa, i francesi provarono a combattere, ma la sconfitta delle poche navi presenti fece capire che non c'era modo di affrontare gli spagnoli. E così le isole vennero liberate, facendo sgomberare i francesi, e restituite ai Savoia. Questo piccolo fatto d'armi, come vi dicevo dal punto di vista militare, non avrà grossi effetti. Se l'obiettivo dei francesi era quello di tenere fuori le altre potenze, le cose andarono molto diversamente, perché la Spagna, Napoli, entrarono in guerra, lo farà poi anche l'Inghilterra, e la coalizione continuerà a crescere sempre di più. In realtà, però, gli effetti di questa sconfitta letteralmente riverberanno in tutte le direzioni e segneranno il destino proprio di quella rivoluzione. Innanzitutto succederà in Sardegna. In Sardegna, il fatto che truppe sarde fossero riuscite a sconfiggere i francesi, a mantenere il governo dei Savoia, spingerà molti dei nobili locali a chiedere ai Savoia stessi di dargli in cambio maggiore autonomia. Qualcuno diceva che bisognava parlarne direttamente con il vicere, che però fin da subito mise in chiaro che non avrebbe concesso nulla alle richieste dei nobili, e così i nobili stessi decisero di organizzare un gruppo che si sarebbe recato direttamente a Torino bypassando il vicere per cercare un accordo col sovrano. Quel gruppo, quella delegazione, però una volta arrivata a Torino fu tenuta letteralmente in anticamera per sei mesi e quando finalmente riuscì a parlare col sovrano esponendo le proprie richieste, richieste che bisogna dire erano assolutamente ragionevoli, chiedevano una maggiore presenza dei nobili sardi all'interno del governo, chiedevano di avere voce in capitolo nelle decisioni che riguardavano la Sardegna, quindi niente di così esagerato, il sovrano dopo averli ascoltati e averne parlato con la propria corte decise di rifiutare tutte queste richieste. La risposta della Sardegna saranno i cosiddetti Vespri Sardi, cioè una rivolta che durerà alcuni anni e che avrà varie fasi, che viene ancora oggi ricordata in una festa che si fa in Sardegna, che è Sadie de sa Sardigna. Spero di averlo pronunciato bene, se no Antonella Romano e tutti gli altri sardi che mi seguono mi mangeranno vili. Ad ogni modo, una situazione simile avvenne curiosamente anche in Corsica, dove Pasquale Paoli, per questo suo abbandono del campo, in qualche modo si nimicò una parte dei corsi più fedeli alla Francia, tra cui proprio lo stesso Napoleone, ma soprattutto decise che forse era il momento di saltare definitivamente la barricata, e dopo essersi accordato con gli inglesi, catturò alcune fortezze in Corsica. La cosa però gli scappò di mano, perché ben presto i francesi tornarono, e anche con l'appoggio di una parte dei corsi che malvedevano Paoli e malvedevano gli inglesi, riusciranno a riconquistare l'isola. Un degli effetti ci saranno anche per la Francia. La flotta francese che tornò a Tolone era ovviamente demoralizzatissima. Il suo ammiraglio, Truguet, non sarà punito, anche perché riuscirà a dimostrare di non aver potuto nulla in tutti quegli avvenimenti, anzi, come vi dicevo, riuscirà a continuare la sua carriera nel periodo repubblicano, poi sotto Napoleone, che pur apprezzandolo moltissimo dal punto di vista militare, avrà grossi scontri con lui, soprattutto sulla questione della schiavitù nelle colonie americane, ma questa è una storia più lunga, e continuerà la sua carriera anche dopo la restaurazione, proprio a indicare quanto fosse un esponente apprezzato della marina francese. Nonostante questo, però, la sconfitta, vi dicevo, avrà grosse ripercussioni anche a livello politico, dove il terrore in Francia inizierà ad inaspirsi proprio a causa di queste difficoltà. Il risultato sarà la rivolta di una parte della flotta francese, che occuperà il porto di Tolone, porterà la rivolta anche di alcuni parti, di alcuni gruppi di soldati in questa zona, e spingerà gli ammiragli della flotta francese a Tolone a chiedere l'intervento dell'Inghilterra, della Spagna e delle loro flotte per riuscire a mantenere la piazza forte. Chi sarà mandato a reprimere questa rivolta e lo farà utilizzando in maniera semplicemente geniale le artiglierie? Un certo Napoleone Bonaparte, che proprio grazie al suo operato a Tolone riuscirà a mettersi in mostra e a iniziare a scalare quelle posizioni dell'esercito francese, che lo porteranno poi a guidare l'armata d'Italia nella prima campagna e a diventare poi imperatore. Ma questa è un'altra storia, è una storia che ve l'ho giurato, lo farò assolutamente, sto continuando a raccogliere libri su Napoleone, prima o poi vi racconterò nei dettagli con una nuova serie. Insomma, dobbiamo prima chiudere qualcuna delle serie che abbiamo aperto. Ad ogni modo, io mi fermo qua, sono sicuro che a qualcuno sarà venuta la curiosità delle rivolte sarde, sono sicuro che qualcun altro ci lavorerà a questa pillola, io non mi ci metto perché ho paura di andare a toccare dei nerdi molto molto scoperti, ma sono sicuro che ci sarà chi lo saprà fare meglio di me. Per il resto, come sempre, un grandissimo ringraziamento ad abbonati Patreon, chi fa donazioni sul conto Paypal, perché anche grazie al loro sostegno, anche grazie al loro aiuto, questo canale riesce ad andare avanti e riusciamo a produrre nuovo materiale a disposizione di tutti. Oggi il mio ringraziamento in particolare va a Simona Sanzi. Grazie mille tantissimo per il tuo aiuto. Per il resto, come sempre, io vi ricordo di essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche, storie incredibili che nessuno scrittore, nessun regista, avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere. E se volete curiosare tra qualcuna di queste storie, qui a fianco c'è l'elenco delle pillole, uscite fino adesso. Noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia. A presto, ciao ciao.